Adriana Volpe e suo marito si sono lasciati? La conduttrice ha risposto alle domande di un fan via sociale. Adriana Volpe è in crisi con suo marito? Da mesi circolano indiscrezioni su una presunta rottura tra i due e sui social. Un fan della conduttrice ha insinuato che lei fosse tornata ad essere single. Immediata la risposta della stessa Adriana Volpe. Adriana Volpe è single? Un fan di Adriana Volpe le ha scritto sui social. Sei bellissima, e sei sempre single. La conduttrice ha immediatamente risposto, no, sono sposata. Mettendo a tacere ancora una volta i rumori riguardanti una presunta fine del suo matrimonio con Roberto. Parli. Dopo l'uscita della conduttrice dal GFV, suo marito è rimasto in Svizzera. Mentre lei si è trasferita con la figlia Giselle a Milano, Adriana Volpe ha dichiarato che lei e suo marito avrebbero sempre vissuto una relazione a distanza e che, anzi, con il suo trasferimento per la prima volta sarebbero stati più vicini. Durante la partecipazione di Adriana Volpe al GFV si sono anche sparsi il rumor su una sua presunta liaison. Con Andrea Denver, sempre smentita da parte di entrambi, Adriana Volpe ha dichiarato che la gelosia provata dal marito in quel caso sarebbe servita solo a rafforzare il loro rapporto, e che con Andrea ci sarebbe solo un rapporto di tenera amicizia. La conduttrice è rimasta accanto al marito e a sua figlia anche quando dopo la sua uscita anticipata dal GFV, è scomparso suo suocero. Scomparso poche settimane dopo aver contratto il coronavirus. Oggi tra lei e Roberto Parli tutto procederebbe per il meglio. Ma per il momento sui social a Titano loro nuove foto insieme.